Ciao a tutti ragazzi, ciao a tutti, ben ritrovati qui dal vostro Valex Rossi, siamo qui ritornati in questo nuovo video, non è post partita, non è post nulla, come avete letto del titolo Modesto diventa nuovo allenatore del Vicenza e io vodo perché si è liberato da noi, si è liberato da noi quella merda umana, quella persona che definirsi persona sinceramente è un'offesa per le persone comunque oneste e sincere, oneste e sincere perché per quanto possa aver fatto schifo, per quanto comunque poi nel suo procedere diciamo della sua carriera Oddo non abbia fatto chissà che grandi cose, almeno ha avuto la decenza di rimettersi quando ha visto che le cose che non andavano, ha chiesto scusa, ha fatto il post su Instagram quando se ne è andato, ringraziando tutto l'affetto del pubblico, tutto quanto, lui oggi per curiosità sono andato a vedere comunque la conferenza stampa perché volevo vedere se dicesse qualcosa, se facevo una domanda sul crotone, chiedevano qualcosa e non hanno chiesto un cazzo o almeno per quello che mi ricordi perché poi non l'ho sentita con tanta attenzione perché già vedere quella persona mi veniva da vomitare e ho visto comunque che lui non ha degnato mezza parola, capisco che sei un'altra società e che comunque non puoi parlare bene di un'altra società, non puoi dire però cazzo, c'è di ragazzi ho l'occasione per poter parlare, voglio ringraziare la mia vecchia società dove sono state e chiedere scusa ai tifosi per come è andata la stagione, adesso sono qui a Vicenza, farò di tutto per portare il Vicenza in serie B e io comunque avrei accettato, porca miseria sei sparito, porco due dopo che comunque sei stato un perno per questo crotone, non dello scosano i giornali del crotone, ti abbiamo idolatrato, ti abbiamo veramente osannato, tutto quanto alla fine ci hai ripagato con l'elettrocessione e la do più inculata neanche a ringraziarci, complimenti caro Modesto, sei veramente una persona di merda, io vedrò le partite se potrò del Vicenza solamente per gufarti e per vedere il tuo gioco di merda che se ne renderanno conto i tifosi del Vicenza perché anche perché ho visto quelle del Cesena, ho visto comunque che hanno commentato in maniera non positiva su questo allenatore e lo sanno, quindi complimenti al Vicenza Calcio che se vuole andare in serie B, se voleva andare in serie B, prima lo poteva fare, adesso non lo fa più perché hanno preso un allenatore inutile, inutile che manco in terza categoria può allenare e lui aspettava la chiamata all'estero, aspettava la chiamata in serie B, anzi non so una piazza come Vicenza come ti abbia fatto a chiamare, che io forse ti avrei fatto allenare il campetto della chiesa, ma neanche forse, neanche forse, ci vuole coraggio, comunque io faccio i complimenti alla società e al direttore sportivo mi pare Sabatini, sei Sabatini, buonanotte, Balzaretti, scusate la mia cosa, scusate, Balzaretti, che veramente ti hanno dato questa opportunità, io sinceramente che poi dice abbia avuto una call, io ho parlato di cazzo, ma quale cazzo di calcio, ma ragazzi ma vedete come gioca quest'anno il Crotone, come giocava l'anno scorso, che ta mosciava tutto, e quest'anno bene o male qualcosa si vede con l'ERDA, dai su, io comunque chiudo qui perché è stata solamente una cosa per dire, non faccio nessuno in bocca al lupo, ti auguro le peggiori, sempre sul campo, perché poi magari sei anche una brava persona, perché tu ci hai portato in serie C, ami Crotone, sei amante del Crotone, da quello che dicevi, sei tifoso del Crotone, ami la piazza, ami tutto, e ci hai fatto il retrocedere, quando hai visto che le cose non andavano per come volevi tu, insistere, hai insistito su cose dove veramente neanche tu potevi prendere la situazione in mano, e tu in quel momento, davvero tifoso, davvero persona, ti mettevi, ti mettevi, quante volte ti hanno fatto appello dimettiti, dimettiti per il bene del Crotone, dimostra, dimostra, lascia la responsabilità ai giocatori, no, tu che hai fatto, sei andato, sei fatto come schiettino, che sei salito su questa nave e ci hai fatto affondare, proprio affondare con tutte le scarpe, e l'anno scorso potevamo salvarci, perché la spalla ha fatto pietà e si è salvato grazie all'Alessandria, che non ha vinto più nessuna partita, il Cosenza, idem, quindi, e il Vicenza, idem, no, idem e il Pordenone idem, stavamo proprio inguaiati tutti quanti lo scorso anno, quindi, complimenti per averci mandato in questa categoria, che non è all'altezza della serie B, ma è pur sempre rispettabile, e grazie a te, che io poi la società non capisco come mi abbia fatto, se hai sperato che sia Juric di turno, perché il Gagliel Sperino non c'è manco lunga, ma forse neanche lunga di Juric sei, perché Juric almeno quando è pronto ha fatto qualcosa di buono, anzi, anzi, sarà ricordato per sempre Juric, detto questo, io non so come il Vicenza ti abbia chiamato, come il Vicenza ti abbia chiamato una società e una piazza come Vicenza, niente ragazzi, non mi dilungo altro perché non voglio sprecare fiato per questa persona, perché già tanto, mi ho sprecato già quasi sei minuti, quindi è già troppo, ciao, tanti saluti, e ti auguro di, non dico di retrocede perché non auguro a Vicenza di retrocede, ma ti auguro veramente di fallire anche lì, mi dispiace per il Vicenza, così da che tutti quanti si rendono conto che persona di merda sei, punto numero uno, e secondo che gioco di merda farai, e le partite le vedrò, perché se poco a poco in serie C, vabbè, dici magari sai in serie C, potrebbe fare qualcosa, ma se poco a poco tu porti il Vicenza in serie B, non ce l'ho con i vicentini, attenzione, porti il Vicenza in serie B, giuro che mi incazzo di brutto, di brutto proprio, cioè, io guarda, spero, non succederà, spero in Coppitalia se beccamo, spero che in Coppitalia, non so se il Vicenza ancora in Coppitalia, ci becchiamo, così ti apriamo il culo, cioè, non per il Vicenza, non ce l'ho col Vicenza Calcio, non ce l'ho con i tifosi, non ce l'ho con voi, solo con quelli allenatori di merda, che comunque ho visto che anche alcuni tifosi del Vicenza non lo vogliono, quindi, bella scelta società.